... Ciao! Jack, sai che ho fatto? No, no, no! Sono stato dal mio drags con il mio... ... 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 Il problema è che volevo una bottiglia di Jack Daniels 12. Avevano solo 11, capito? No, per me è 11! Va schifo! E allora tu sai che stai copertando i maligni, ci stavano a casa. Non lo sapevo sotto! Sì, sono 10, Jack Daniels? Sì, Jack Daniels? Sì, Jack Daniels? Non avevo un solo team? nei 川in mi raccomando che ne hanno perdio скую partite guardiamo Allora abbiamo un progetto, io faccio il mio lavoro, dicendo che abbiamo un progetto, quando io chiedo un c'è dentro, 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 un c'è dentro. Non c'è dentro, un c'è dentro, un c'è dentro, un c'è dentro. ci vediamo eh? toccato che basta da lì la solita notte una mattina adesso la bottiglia lo sai che mi sono altrimenti non mi fai no io non ho bisogno adesso la voglio subito e anche io non ho bisogno adesso la voglio subito non fai ah no ah no ah no sto con il mio sto con il mio il tuo no passate la vuoi la vuoi la sogliera davvero e io sai che sogliera che ti hai fatto una bella con chi è il jack denis 12 12 12 ci ho e ora che si faccia di fare prima una cosa per me tu non vuoi entrare più con la tua bottiglia ah no ah no mi stai notando mi non vuoi sempre ma è stupido senti se guarda questa bottiglia vieni in realtà non vuoi ah guarda dimmi faccio quello che vuoi quello che sei lui no si tu vuoi dire che mi sono di madre ma non posso stare medicina in generale ah e poi mi stai ricorda che non va però non lo posso fare tu la farai basta sia la vostra bottiglia un po' giusto un po' giusto no 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 e allora io sarò saluto per il prevedo la mia altura no 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 grazie 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 è una rapina questa è una rapina grazie 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 E' meglio? Vedi, non mi sa di più.